Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Milan Inside Oggi ragazzi, Bologna-Milan, video pre-partita per analizzare un po' le proprie formazioni e parlare un po' della partita che ci aspetta Ma prima di cominciare ragazzi, gentilmente, vi ricordo di lasciare un like al video iscrivetevi al canale, attivate la campanellina in descrizione tutti i link dei profili social di Milan Inside e vi ricordo il sito www.cmilaninside.com con tutte notizie, foto, video inerenti al nostro Milan Allora ragazzi, dopo la disfatta di Champions il Milan oggi torna in campo in questa partita che è molto importante per vedere, per valutare la reazione dei ragazzi questa partita che è contro una squadra non facile squadra che prima della sosta ha battuto la Lazio 3-0 in casa squadra che all'ultima ha pareggiato oserei dire anche un po' non meritando perché meritava di vincere con un gol all'ultimo su un fallo di un portiere su Skorupski non sarà facile al di là visto anche viste anche le presenze nove assenze l'ultima quella di Kessi Rebic non recupera la probabile formazione dovrebbe essere da Tarusano da destra verso sinistra Calabria i due centrali dovrebbero essere Tomori e Romagnoli e a sinistra Balloture ci potrebbe essere la possibilità di vedere Calulo a sinistra e dopo la conferenza stampa di ieri dove il mister Piura ha detto che Calabria è vero che può giocare a destra e a sinistra ma se può lo mette a destra nel senso che a meno che non sia fortemente obbligato a metterlo a sinistra Calabria non ci giocherà mai e quindi fin quando avrà l'opportunità di mettere Balloture o di adattarci Calulu o chi per lui Calabria rimarrà a destra che è giusto se non fosse per il fatto che di là dobbiamo vedere Balloture e mi viene la febbre va bene andando avanti centro campo l'ultima indisponibilità di che si obbliga il mister a giocare con Benna Sere e Tonali con Bakaio Ko che è tornato a porto quindi sarà comunque un'alternativa valida sulla tre quarti in settimana allora l'unico sicuro è l'AO a sinistra al centro dovrebbe giocare quasi sicuramente Krunic Ballotaggio un po' più aperto a destra tra Salema Kers e Castillico nonostante in settimana sia si sia paventata la possibilità di vedere Samu titolare alla fine dovrebbe spuntarla Alexis davanti il mister ha detto che per le condizioni nelle quali stanno non è presto ancora per vedere il pregirù titolare insieme quindi ci sarà staffetta nelle ultime ore Ibra sembra aver superato Giroud fatto sta che comunque sia chi parte parte ci sarà una staffetta un'oretta l'uno mezz'oretta l'altro più o meno a meno che poi la partita non obblighi a doverli usare insieme ma speriamo di stare tranquilli non dover soffrire di non dover sbraitare di stare belli serili Bologna dal canto suo squadra che da tre partite più o meno si due o tre partite ha cambiato modulo passando al 3-4-2-1 si che di fatti poi è un 5-4-1 in fase difensiva oggi mancheranno Bonifazi mancheranno il neo tesserato Viola per una squadra che dovrebbe schierarsi Svabekos Korupski Sumarò Teat questo ragazzo arrivato in estate che finiva due gol Inter e Lazio e poi c'è un ballottaggio tra un giovane Binx e Medel se gioca Binx Medel scala a centrocampo altrimenti in caso contrario Medel lo vedremo nella linea dei tre difensori e Dominguez giocherà a centrocampo quindi poi De Silvestri Medel Dominguez o Binx Svabekos era in dubbio dovrebbe giocare Schulten e a sinistra Ikei poi Soriano Barro e Arnautovic al di là di questo dalla conferenza stampa di ieri ne è uscito che anche Pellegri è fuori non è non è disponibile è fuori e ormai ci ho perso le speranze attendo con ansia di poter giocare una partita a pieni ranghi a pieni con tutti i giocatori disponibili semplicemente per vederli tutti tutti quanti tra panchina e chi sta poi in campo e non vabbè viene difficile questo attacco influenzale di che si vabbè sperando ma il mister già ha detto che non è però sperando che non si tramuti in covid perché se no a proposito di covid credo che poi per la prossima infrasettimanale contro il Torino contro il Torino sì dovrebbero tornare dovrebbero tornare sia a Deo che a Diaz vedremo comunque giorno per giorno ora testa la partita di stasera che ci permetterebbe innanzitutto di continuare il nostro percorso bello bellissimo finora ma che non varrebbe a niente se se poi facessimo schifo insomma quindi bisogna continuare questo percorso alla luce anche del fatto che il Napoli ha una partita difficile contro la Roma e alla luce del fatto che comunque domani sera c'è Inter di Juve quindi il discorso è sempre quello lo stesso di fine settimana scorsa vincere per continuare nel percorso e perché inevitabilmente ci saranno in due partite o due squadre o magari tutte e quattro che sulle quali guadagneremo punti aspettiamo stasera ritroviamoci tutti davanti alla tv tutti a tifare sperando che nel post partita possiamo stare belli tranquilli belli sereni gioiosi festosi e quindi ragazzi vi do appuntamento a post partita con l'analisi io vi ringrazio il tempo che mi avete dedicato vi ricordo gentilmente like iscrizione campanellina tutti i link di mine inside il sito internet e vi saluto forza mine per stasera per farmi conoscere io non faccio mai pronostici mi astengo sono cose legate alla magia che non ci interessano pensiamo alla realtà rimaniamo concentrati ciao ragazzi forza mia grazie a tutti grazie a tutti